Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Aglio e Calenzano VI Fiorentino, rallentamenti invece tra Calenzano VI Fiorentino e il Vivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Si ricorda inoltre che a causa di lavori fino alle 18 di domani 28 luglio rimarranno chiusi i tratti tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna e Trappian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Spostiamoci sulla FIPI lì dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in entrambe le direzioni. Viabilità della città di Firenze a causa di un ramo pericolante chiusa via della Pescaia con disagio alla circolazione. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!